me l'hanno rubata tessa ma insomma chi vuoi che te l'abbia rubata non lo so ma chiunque sia stato me la pagherà cara ma scusa allora volevi vendergliela ma che cosa ma come cosa la cintura no ma chi l'ha detto tessa sei stata tu a dire chiunque sia stato a prendere la mia cintura me la pagherà cara ma sta zitta cretina io la mia cintura non la venderò mai ma è lei che l'aveva detto tessa insomma smettila di prendertela con puccia tu stai calma e vedrai che la tua prezzi